prova prova bene stavolta funziona dicevo abbiamo appena conquistato rimini appena conquistata terremoto avevamo distrutto un esercito e rusco nel vesti navoli ne era rimasto uno vicino a rimini e ci cingevamo ad ammazzarlo ovviamente il prossimo turno e voilà buoni cartaginesi ancora non ce l'ho con voi eh prima voglio come si dice assicurarmi domini a nord blablabla sidacusa buona sidacusa molti amici cerca un doppio d'accordo logotamento ah giusto perdo uomini anche se assedi una città su questo bel totale realistico giustamente adesso posso fare due ricchezza di commercio accordi commerciali il fatto di agricoltura questo qui irrigazione migliorata adesso costruzione completata la fattoria avvelati io provo provo ammazzargli il comandante il generale così e che cazzo fallimento questo è imbastito vuol dire che questa esperienza anche se ha fallito e vabbè infatti è salita di esperienza vuol dire che dovremmo cavarcela da soli leggermente svantaggia che sembrava lo stesso io c'ho due unità di lanceri italici anche lui non lui c'è una tre e c'è una una di fantaia nobile italica e una di cavalleria mercenaria io c'ho due lanceri italici una di astati il generale e poi c'ho due schermagnatori veliti e le leve le leve fanno particolarmente schifo devo cercatene lì al sicuro della cavalleria sennò me li princia gli schermagnatori che non è una gran perdita però insomma possono far comodo no niente nebbia non mi piace una bella giornata solita faccenda forza forza sempre 30 omini io c'ho lo barbaro c'ha tipo se sa quanti cavaliere appresso si poi in effetti c'ho il modale io che è molto più alto lo barbaro la metà se va bene l'area del modale ah i lanceri mercenari manco tirano i lanci quando caricano che schifo gli astati si meno male facciamo una bella marcetta eh che ne dite dobbiamo essere in vista del nemico eccolo vuoi caricare sta bella cavalleria so che è un rischio ma lo so aprirla ce l'ho mandato io ispira me stesso vorremmo l'amazzassero sapete ma come vacillano oh e vai rotta cristo andavi rotta mazzi mi è morto mi dà il generale bella cappella che ho fatto ma vi mette più fuoco amico che nemico se fa una cosa intanto sapete che a parte andai dietro poi non ricarico c'ho pochi uomini se andiamo a più al punto anzi no carico quelli in fuga è una buona idea bam non govremmo rischi ecco sinzer pieno se cosa vuoi proprio i boni non ho mai conquistato pirla ecco come stanno in fuga del tutto è fortuna di schermagliatori se no veramente giù 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 invilzate come porchettati come porchetta voi date una mano a quell'anti che sta fanno di nobili talica mi fa sboccare l'anima vuoi giù se no sarpigliano tanto vabbè basta via dai è bombardato in posto sta fanno di nobili talica cioè guarda che roba amore ah un po' di giovellotti da dietro ah i nostri uomini vaccini cioè dietro gli giovellotti vanno sotto all'uomini loro ma cosi è un rischio ma lo devo fare ecco rispira lo scappa lo stesso carica da dietro oddio io lo sapevo lo sapevo se sono arpigliati lo stesso porca puttana oh so dieci uomini morto pure il generale è morto giù sta vivo eh no no voglio ammazzare il generale non voglio ammazzare gli sti quattro stronzi simba dar pigliarvi via via dai basta basta va che sono dei lenti questi voglio ammazzare il generale se no niente hm oh no 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 hanno avviato le lanceste d'incoglioniti ma hanno ammazzato il generale d'incoglioniti d'incoglioniti rincoglioniti del cazzo zambo zitto porco vaffanculo porca puttana porca puttana gli ho detto che sta fermi ma porca ando che pazzi sti domani ci ho rincoglioniti porca ho detto sta fermo sta fermo ecco ecco morto generale per il fuoco amico porca puttana sto video mette una ristezza unica e vabbè una morto notevole è morto via a me ando con meno esperienza perché ancora è vivo l'esercito porca e via dal cazzo e ruschi de merda via dai coglioni mi ha aumentato però che sega ragazzi forse me lo hanno creato i seggiare dopo più 5 al morale sì dai e niente ragazzi che bella che bella che bella battaglia di merda andiamo un po' napoli facciamo il porto o il villaggio villaggio dai e intanto mi sposto per invare la corsica a breve e io me ne vado a rimini al mare chiede attenzione un giro una ragazza che sta provincia è stata amicizia con un delfino e lo regano così forte che la cazzo di mezzo di cavalcano spettacolo ma che è sta puttana commercio locale non fate nulla fa pagare per vedere il delfino certo e va bene finiamo il turno ma quella del delfino è già ma cioè l'antico domano cavalcava il delfino sembra un po' una puttanata le proporzioni epiche comunque si esce magno sopra vede il delfino devi cavalca dobbiamo anche far mettere un messaggio fazioni su telepito strano a cavallo del delfino non la somma di denaro rispetto a vedere del delfino ragazzi ho comune le spese e sicuro un certo profit tuttavia la devorazione provinge nei soffili quando la gente si inizia lamentare perché doveva pagare per vedere un dono degli dei ah l'ho messa il cazzo via la lista oh i ragazzi li ho contenti ah certo fino al villaggio al vino eh vediamo un po' qua che posso costruire il pesce ma già mi aumenta lo squallore allora facciamo questo qui le pesce non le famo ma molto pesce dai già ce l'ho questa perfetto quindi noi ce ne andiamo a rimini anzi sapete che vi dico via i mercenari che mi occupano troppi soldi decludiamo uni adastati perfetto e noi ci avviamo per la simpatica corsica perfetto molto bene tutti contenti meno male ah la spia la spia la spia la spia la invio a nord con l'esercito notturno e pondo il tempio di mercurio qui niente dove? ah la rimini eh famogli in tempio dopo mi attendo il terremoto ah ma attacca no ma io me la ho me la voglio come non mi posso ritirare perché non mi posso ritirare la battaglia perché non mi posso ritirare la battaglia scusate perché non mi posso ritirare ma perché perché scusa ma che cazzo dici non mi posso ritirare che cazzo c'ho le zeppelle al culo ma che c'ho ma porca puttana manco la faccio dove vado con tre barchette sconfitta io sì ragazzi al cazzo non posso ritirare la battaglia ma che cazzo di senso c'ha io sta partita sto turno oh mannaggia la agli dei tutte è morto generale ragazzi andiamo a ripararci perché no si trovi in acquostili sotto casa che acquostili so ma però non aiuto la mente ragazzi e niente amo basti non stermi da che c'ho che ci sta qui costano un botto sulla popolazione agna c'è dove va a brindisi voilà che gli fanno non è tutto qua a dichiarare da me fai un cazzo ok ti contenti andiamo un po' a rimini potrei robindi si richiede più attenzione facciamo il foro facciamo il foro che è in gelà e a Napoli facciamo l'altare di Mercurio che ne so si può attenere lì pezzo quest'urno e poi basta che il tempo sta finendo e un anno se ne va non mi so ricordato di abbassare il volume del gioco quindi non so dove d'alzo un po' il volume per sentire cazzate che dico non mi ricordo sinceramente sapete proprio non mi ricordo lo scordo sempre porca la puttanaccia si 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 muovemos eh oggi mi geni coglioni rispettoso e demente com'è demente demente me lo spero ci ha buttato lo zero wow ottimo adesso lo facciamo a Rimini oh diciamo che li circondiamo eh più la guarnigione che il lodo poi in effetti è l'ultima fortezza di rosca dopo finalmente mi arrivo dal cazzo e va bene va bene devi concludere qui il turno ragazzi di me il video non ho il turno di merda proprio di merda vedo che sono contenti tutti però anche Rimini ah voglio dirvi una cosa maggiore più contenta la popolazione più migliori sono le strade infatti con i barbari io ho strade di fango che sul cazzo ha tutti qua un turno per foto qua niente ah quello è il furo ha un turno per pesce bene bene molto bene e va bene ci vediamo la prossima volta grazie per l'attenzione ciao ciao